Ciao, sono Emanuela Madio, docente e fondatrice di Case di Fotografia. Mi occupo di didattica fotografica dai 9 ai 99 anni. Organizzo laboratori didattici per le primarie e le secondarie, corsi di tecnica e cultura fotografica per adulti e corsi di formazione per docenti. Catturare le emozioni in un diario fotografico è un corso pratico dedicato alla realizzazione di un diario autoprodotto in cui raccontare le esperienze degli studenti con immagini e parole. Durante le lezioni vedrai come realizzare un diario di classe in cui raccogliere i pensieri degli studenti e gestire una sessione di scatto con lo smartphone. Imparerai a scegliere le fotografie più adatte e utilizzerai Canva, un semplice programma per l'impaginazione. Infine concluderemo il lavoro occupandoci della rilegatura del diario. Con questo corso potrai sperimentare un metodo di lavoro efficace da applicare subito in classe e realizzare un diario fotografico per dare voce all'emozione dei tuoi studenti. Ti aspetto! Grazie!